Ciao a tutti ragazzi sono Dari Conner, oggi siamo qui con un vlog si può dire, giusto per dirvi che dobbiamo andare in vacanza e quindi per voi sarà tutto normale cioè abbiamo tentato di montare tutti i video in modo che come tentato si intende che usciranno come sempre all'incirca ogni giovedì e venerdì e tra l'altro perché sito la pagina di facebook saprei in anteprima che vi riusciranno probabilmente perché abbiamo questi occhiali e non servono a un cazzo solo che io ho un occhioritato invece questi fanno io comunque cercherò di rispondere ai commenti va bene ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi sono Dari Conner, non mi chiamavo danni corra io Ciao a tutti ragazzi sono Dari Conner, non sono 5 Cazzo cominciamo con i fail Sto sudando con BORIKA Outro